Buongiorno ragazzi, giovedì 15 settembre 2022, sono le 8 e 40, sono Giacomo, diventerò migliore in 5 anni e sì, è successo ragazzi. Ieri ho cancellato 800 e passa episodi del podcast, ma tranquilli che ciò non inficerà sul futuro della mia registrazione, del mio palinsesto quotidiano, lunedì, venerdì e qualche volta anche sabato o domenica perché mi piace farlo, quindi non c'è nessun problema, il titolo non è, non voleva essere clickbait anche se strizzava l'occhio un po' all'essere clickbait, però mettiamo subito in chiaro le cose perché non mi piace essere quello che dà aspettative oppure che dà titoli del cazzo e poi non mantiene le promesse. Andiamo a capire il perché ho cancellato tutti i miei episodi e perché comunque non dovete preoccuparvene. Allora ieri, e tra l'altro apro una parentesi, il mio podcast è fatto, gli episodi sono fatti di parentesi tra l'altro, perché quando ho sentito un'intervista di un ragazzo sul gruppo di Club Biro, parlava del fatto che lui si è reso un imprenditore, si è reso conto che quando si è sentito arrivato e ha smesso di formarsi, il suo fatturato ha iniziato a calare, così come l'afflusso di clienti, no? E questa cosa qua lì l'ha subito capita e ha detto, no no cazzo, devo assolutamente darmi da fare, devo sempre stare aggiornato, devo sempre studiare qualcosa, lì non ha un piano preciso di studio, non è che oggi studio per forza qualcosa inerente al mio ambito, però ogni giorno ho detto che si mette due ore in agenda di formazione, che sia qualsiasi tipo lettura, video, corso, eccetera, eccetera, no? E io quando l'ho visto ho detto, cazzo, però due ore al giorno sono tantissime, se ci pensi che il tempo che siamo attivi è veramente poco, i due ore rischiano di essere quasi 15-20% della nostra giornata produttiva, no? Quindi ho detto, cavoli, c'è tanta roba, pensa a te sto qua, lavoro dalla mattina alla sera e riesci anche a trovare due ore per formarsi, e ho detto, beh, bello, bravo lui, tanta roba, merita di stare andando bene con la sua azienda, no? Sennò che ieri sera stavo guardando YouTube e mi sono reso conto che effettivamente anche io quando posso, cioè quasi circa ogni sera dopo che mamma gli si addormenta, mi formo anch'io, perché guardo YouTube, ok, però guardo video solamente formativi a livello di finanza, di denaro e anche di posizionamento del blog, perché alla fine anche quello conta e sto capendo che conta sempre di più, quindi questa cosa mi ha un po' tranquillizzato, mi ha fatto capire che effettivamente sì, le cose dette esistono, però vanno prese con le pinze, no? Esattamente come il titolo di questo episodio, uno dice, cancella il pod, no, cancella il pod, Giacomo, adesso come faccio a sopravvivere? Invece, no, cancella il pod, se andiamo a vedere cosa ci dice, sicuramente non smetterà di registrare, no? E come ha detto appunto l'imprenditore, che lui fa due ore di formazione al giorno, non è che bisogna pensare, no, sto qua, cioè due ore al giorno, si mette là su un libro, lo legge, no? Ormai siamo nel 2022, formarsi non vuol dire per forza star là su un libro, magari a lume di candela, ma vuol dire ascoltarsi un audiolibro, oppure vedersi un video su YouTube, appunto, sono tutte cose che ti aiutano a migliorare, che ti fanno diventare una persona migliore, più competente nel tuo ambito, ma anche in altri ambiti, perché al fine non è detto che tu debba per forza formarti sempre solo su un aspetto più vari, più tendi ad essere interessante e innovativo nella tua nicchia, perché prendi cose dall'altra parte, le riporti sulla tua e arrivi a un punto nel quale magari inventi una nuova modalità che ti fa fare il botto, no? Detto questo, stavo guardando tanti in realtà video sul posizionamento di un blog, perché anche quello ormai sto capendo che il blog sta diventando la mia vita, no, lavorativa, non perché ci passi tutto il giorno, gran parte del giorno, ma perché le mie aspettative future sono di guadagnare tramite il blog, non più con le pubblicità, ma con i link affiliati e varie altre cose che stiamo progettando, no? Quindi ho detto, beh, visto che a maggio, fine maggio, abbiamo preso una batosta con il ragionamento di Google e non riesco a uscire, è incredibile, cioè non riesco più a tornare su, le viste sono calate a merda proprio e adesso non riesco a crescere, ho detto, beh, iniziamo a vedere in internet se dicono qualcosa e ho trovato sto youtuber molto bravo che sta rilasciando dei contenuti interessanti, in realtà furisco quelli vecchi, ma vecchi di due o tre mesi, perché quelli vecchi di un anno diventano abbastanza obsoleti e faceva dei ragionamenti molto, molto, molto interessanti, che in realtà a pensarci dopo erano ovvi però quando li sentiti da qualcun altro chiaramente hanno tutto un altro impatto su di te, no? Quindi questo è per dire che se avete un problema o non riuscite a crescere o a migliorare YouTube può essere la soluzione, non chiaramente andare a vedere i video del cazzo di, non sapere neanche di un YouTube del genere non YouTube del momento, però appunto cose formative, spopola, è strapieno di persone che danno valore gratis sul web, poi chiaramente il loro scopo è quello di venderti la loro masterclass avanzata, i loro corsi però già semplicemente a gratis ti danno tanto di quel valore che proprio basta e avanza quindi questo è il mio consiglio spassionato Tornando a noi, quello che diceva ieri è che Google analizza il tuo sito in toto quindi vede tutti gli errori che ci sono e poi lo valorizza, lo penalizza in base a quanto bene è fatto in quante problematiche ha e io non mi sono mai reso conto del fatto che il mio blog ha una cazzo di problematica incredibile che mi sono causato da solo, tra l'altro mi sono tirato la zappa sui piedi da solo pensando di fare una figata, in realtà ho fatto proprio una merdata incredibile ed è, non so se l'avete mai notato perché tra l'altro sono delle pagine che nessuno probabilmente a me è andato a vedere, ogni volta che pubblico un episodio del podcast qui faccio stop, pubblica, lì lo pubblica su tutte le piattaforme quindi Apple Podcast, Spotify, Google Podcast eccetera eccetera ma anche va a crearmi un articolo sul mio blog in una categoria nascosta però un articolo pubblico quindi indisizzabile la problematica di fondo qual è? che uno degli errori che Google vede peggio è quando in una pagina non ha un metatitolo insomma sono dei parametri che tu devi mettere per essere indicizzato al meglio deve avere questi due parametri, il titolo e la descrizione un contenuto lungo e non deve avere troppi link ecco, i miei articoli avevano un titolo assente un metatitolo assente, la description assente un titolo dell'articolo lunghissimo, troppo lungo e il contenuto era quasi zero, era strappieno di link quindi in sostanza ogni articolo che pubblicavo era un chiodo che mettevo sulla bara del mio possibile rinascita come blogger e ho capito questa cosa e ho detto cazzo Giacomo sei proprio stupido perché ogni giorno scrivi un articolo fatto bene e pubblico un articolo fatto male perché ogni episodio del podcast corrisponde a pubblicare un articolo di merda assolutamente inutile quindi ieri sera mi sono messo là era tipo le nove e mezza ho detto mi guardo ancora questo video poi vado a dormire e ho sentito questa cosa e ho detto no no dobbiamo risolvere immediatamente quindi mi sono messo là ho cancellato più di 40 pagine sempre che sono più di 800 pagine più di 40 pagine di articoli da 20 articoli l'una e ho fatto tutte le ridirezioni quindi non ci sono più errori e oggi il mio obiettivo è quello di togliere tutti gli errori SEO presenti sul blog perché ho assolutamente necessità che il blog torni a correre torni a crescere secondo me questa cosa qua potrebbe essere un'ottima 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 mossa perché è veramente è veramente intelligente ma doveva arrivarci mesi e mesi fa ma quello vuoi farci quando quando lo studente è pronto il maestro appare quando sei pronto a recepire una cosa la senti fino a che non sei pronto possono anche dirtela ma tu non riesci a sentirla quindi ci stacchio ci sei arrivato solo adesso ma sono contento di esserci arrivato e volevo condividere questa cosa qua perché sembra stupido sembra però in realtà oh ragazzi è stata scoperta su youtube questa cosa qua quindi youtube come metodo formativo è veramente eccezionale e ve lo consiglio trovatevi un paio di persone che che vi danno delle dritte che sono dei dei campioni del mondo del loro settore iniziate a seguirli vedrete che di sicuro non ve ne pentirete per quanto mi riguarda seguo Adam & Froy un po' meno e adesso ho iniziato a seguire questo qua che si chiama Matt Diggy o Digity una cosa del genere e bravo mi piace anche perché si spiega bene e soprattutto fa video veramente dettagliati e molto lunghi approfonditi quindi mi piace e questo per dire che appunto ragazzi si può trovare di che migliorarsi in qualsiasi in qualsiasi ambito quindi non per forza dobbiamo buttare via le serate a guardare Netflix cosa che anche io faccio tra l'altro ogni tanto però possiamo anche passarlo certe volte per migliorarci detto questo a proposito di Netflix cito una cosa che ho visto due giorni fa che si chiama Get Smart With Money è un documentario su Netflix dura un'ora e mezza dire che è bello forse è eccessivo dire che sei un'ora e mezza e non sai come spenderla probabilmente te lo consiglio è più corretto perché non ti dà niente di innovativo di rivoluzionario però ripete le cose che fa sempre piacere sentirsi dire quindi te lo consiglio si chiama Get Smart With Money come è strutturato non è male perché prende le vite di quattro persone diverse c'è un giocatore di NFL che ha fatto il primo anno di contratto si è sputturato tutti i soldi e adesso ha problemi a trovare un altro ingaggio c'è una famiglia con la moglie che lavora il papà è uno stay at home dead un casalingo con due figli però lei guadagna bene però non gestiscono bene le finanze c'è un'altra coppia c'è un'altra ragazza che lei è veramente super figata la sua storia è quella con i capelli azzurri se lo vedete capirete di chi sto parlando insomma bello bello tra le altre cose e poi queste quattro figure vengono affidate a quattro mentori uno di questi quello che cura la coppia dove lui è un casalingo è Mr. Money Mustard quindi se volete andare a vederlo è sicuramente interessante il fatto che sia Mr. Money Mustard fa capire che è una cosa di livello non è una cafonata buttata là a caso se lo vedete fatemi sapere cosa ne pensate quale storia vi piace di più a me sinceramente mi ha motivato e gasato un sacco quella della ragazza con i capelli azzurri perché ci sono un paio di chicche un paio di dritte che il mentor le dà per iniziare a trovarsi un po' di clienti che è veramente bello poi chiaramente vedi queste quattro storie e dici vabbè vedi loro ce l'hanno fatta già dopo un anno sono su un'ottima strada per risolvere i loro problemi e va bene però meglio per loro ragazzi questa cosa non so c'è un po' non dico di invidia ma il fatto di sì è ovvio che andasse così alla fine è in tv quindi per forza deve andare bene ma in realtà non è così la cosa importante da fare è iniziare a muoversi e gestire meglio le proprie finanze comunque dateci un occhio perché secondo me merita 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 no rispetto merita 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 se non avete niente meglio a fare se c'è qualcosa di più approfondito fatelo ma tenetelo sempre in to do list perché appunto un'ora e mezza in quale sentite ripetere determinate cose che vanno sempre ripetute rinfrescate ogni tanto detto questo ragazzi oggi sono molto contento su di giri perché so esattamente cosa fare in questa giornata ovvero sistemare quelli problemi del sito quindi sono contento sono gasato per questo mi metto subito all'opera sono Giacomo milionario in 5 anni ci vediamo domani ciao ciao